Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario oggi è dedicata alla protesta dei 28 lavoratori della Tecra, società che si occupa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, avevano ottenuto l'impegno che da ieri sarebbero tornati a lavorare, invece ancora un nulla di fatto, sit-in dinanzi ai cancelli della ditta, vediamo. Tornano a protestare i 28 lavoratori della Tecra, l'azienda che gestisce a Gela il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che le aveva assunti con contratto a termine sotto la campagna elettorale per poi licenziarli alla scadenza dei tre mesi convenuti. Ciò nonostante avevano ottenuto la promessa dalle parti interessate che dal primo marzo, cioè dire da ieri, sarebbero tornati a lavorare, ed invece ancora un nulla di fatto. Ad oggi gli operai non hanno ottenuto nessuna lettera di assunzione, da questa mattina hanno deciso di presidiare l'area antistante, il piazzale in cui è situata la Tecra, lungo la Gela Catania, a pochi chilometri dal centro abitato. Da un accordo che è stato siglato il giorno 8 febbraio, si diceva, si è scritto e è stato confermato sia da Balistere che dal sindaco messinese che noi dovevamo andare al lavoro il primo marzo. Per quanto riguarda il sindaco, per il sindaco già noi dovevamo essere al lavoro, perché siamo stati sabato a parlare con lui, l'ha accettato questa cosa. Ora, la cosa strana è che ogni volta ci vanno promesse il giorno 16 gennaio, il 27 febbraio, ora siamo a marzo, però all'ultimo momento si ingeppa sempre qualcosa e non ci porta a nulla. E' da nove mesi che siamo fuori, quindi io non lo so che si mettano d'accordo, che trovano un punto, non lo so. L'importante è che quello che almeno è scritto, perché è scritto, hanno preso un impegno con i lavoratori, quindi chiediamo che noi veniamo riassunti subito al lavoro. E quando voi ieri siete arrivati qui davanti ai cancelli della Tecra, cosa vi è stato detto? Siamo stati buttati fuori perché giustamente non essendo lavoratori, ci hanno buttato fuori perché se qualcuno si fa male, uscite fuori dal cancello. Come è giusto che sia, penso. Noi siamo scesi qua al cantiere e ci hanno risposto direttamente che qua al cantiere ancora non hanno avuto nessuna comunicazione. Quindi ad oggi noi stiamo qua a protestare perché siamo ancora fuori e non a lavorare. Chiesto l'intervento immediato delle organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali si sono mosse, non è che possiamo dire che non si sono mosse, però non vediamo niente di concreto praticamente. Loro si sono mosse, però ad oggi quello che si dice non viene fatto. Tra l'altro nell'accordo, nella riunione che è stata fatta per il nostro rientro, noi non è presente sia la Cigile che la CGL, quindi anche loro hanno firmato. Quindi devono vigilare. Noi ci sta seguendo il Saverna che sta facendo quello che deve fare. Da parte c'è anche Scicolone che si sta interessando per questa situazione, però che si muovano. Perché succeda qualcosa? Non lo so, ci stiamo aspettando. E sulla vicenda il sindaco Domenico Messinese chiarisce che la Giunta e il Consiglio Comunale hanno fatto tutto quanto rientrava nelle loro competenze. Altri invece no, sentiamo. C'è stata una direzione da parte del Consiglio Comunale di fare dei lavori di pulizia assordinaria sul territorio perché c'era tutta una serie di notizie di aree dove bisogna intervenire. Quindi per questo si era programmato un piano di intervento in più da poter fare. Quindi le persone necessarie per poter eseguire questi lavori dovevano essere prese all'interno di un elenco che era presente all'interno di un passaggio di cantiere che c'erano queste 28 persone. E questo inizio di attività assordinaria doveva partire fin dal primo marzo. E' erano state date tutte le indicazioni al dirigente per potersi attivare in tal senso. Sono state fatte tutti i giusti passaggi necessari per poter consentire di poter fare questa pulizia assordinaria in determinate zone della città, fra le altre cose anche in zone exormane di alto pregio come è la zona del biviere. E quindi questa pulizia assordinaria che fra le altre cose impegna per un certo numero importante di mesi di persone consentiva di poter dare delle risposte a tutta una serie di note che sono vute sia da normali cittadini ma anche da istituzioni per poter ripulire il nostro territorio. Tutte le indicazioni sia da parte della Giunta sia anche del Consiglio Comunale che erano d'accordo su questo tipo di intervento perché sono degli oneri in più per la collettività ma sicuramente avremo un maggiore decoro. Erano state veicolate verso il dirigente che già dal primo marzo considerando che tutte le azioni propedeutiche erano state risolte e ben definite e di poter avviare questo servizio aggiuntivo. Sinceramente ad oggi il motivo per cui ancora si sta rallentando lo devo approfondire e infatti chiederò ampie spiegazioni. Dunque se l'amministrazione comunale si è mossa in tal senso se il Consiglio Comunale ha fatto altrettanto la colpa di che? Del dirigente del settore? Io prima di cominciare a dare colpe voglio capire in modo molto chiaro il motivo per cui non ha dato il via a questa polizia straordinaria che poi questa polizia straordinaria doveva portare indirettamente a queste persone iniziare il servizio perché fra le altre cose il Comune non dà lavoro il Comune non entra all'interno del merito delle ditte a chi deve o chi non deve assumere è una cosa che non esiste. E cosa diciamo? Hai 28 lavoratori che protestano? Io per me dal primo marzo queste persone dovevano iniziare a pulire la città quindi quello che dovrebbe protestare sono pure io perché io immaginavo che già dal primo di marzo Gela potesse incominciare ad avere in determinate zone del territorio un decoro che è quello che merita e non avere queste mini discariche sparse per tutto il territorio. Incendio la scorsa notte in via Plutone a Gela il fuoco ha interessato una Fiat Panda di un 50enne si è propagata ad una Renault Megane e ad una Fiat Ulysse indagano i carabinieri. Giovani cattolici in piazza per una nuova tappa di evangelizzazione di strada che raggiungerà proprio i luoghi della Movida Gelese e teatro troppo spesso di scontri violenti che coinvolgono ragazzi di ogni età. L'iniziativa promossa dal Movimento Giovanile San Francesco preseduto da Concetta Lacedra in occasione della manifestazione mondiale 24 ore per il Signore promossa in città dalla piccola Casa della Misericordia dei Padri Agostiniani all'obiettivo di portare il messaggio evangelico proprio nei luoghi frequentati dai ragazzi. In programma una due giorni che prevede oltre agli appuntamenti di adorazione alle confessioni nella chiesa di Sant'Agostino una via crucis nella stessa piazza e la notte di luce e di riconciliazione adorazione eucaristica con possibilità di confessioni. Attraverso canti, coreografie, riflessioni e testimonianze dirette sarà possibile meditare sul mistero della croce e su varie tematiche sociali come la famiglia, la criminalità, la pedofilia, l'aborto, la dipendenza da droghe e alcol e la violenza sulle donne, l'omicidio e la povertà. L'appuntamento è per venerdì 4 e sabato 5 marzo alle 22.30 in piazza Sant'Agostino. Massimo Liguoti, proseguono gli incontri, i tavoli tecnici per il Porto di Gela ieri avete avuto anche un incontro con le associazioni ambientaliste presenti sul territorio ed anche con l'Archeoclub. Cosa ne è scaturito da questo incontro in merito proprio ad una vicenda che ormai ci trasciniamo da tanto tempo e parliamo della realizzazione di un vero e proprio porto? Io spero che comunque sia uno degli ultimi incontri e che si arrivi a una conclusione ormai perché siamo ormai in direttura d'arrivo e stanchi di questi incontri. Ieri praticamente abbiamo avuto questo incontro con alcuni esponenti tipo Lipo e Emilio Giudice nella persona per trovare una soluzione al problema di queste dune andistanti al modo di ponente. Diciamo che la soluzione che dà la Lipo è di mettere delle piante a far sì che in modo naturale si fermi l'avanzamento della sabbia. Speriamo che sia un progetto valido e che noi comunque cerchiamo di appoggiare. E invece la vostra intenzione qual era? Diciamo che la mia intenzione era quella di portare a livello zero le dune e quindi riportare la sabbia da dove è stata levata tramite il vendo e fare una rete frangivendo al ridosso del molo di ponente in maniera tale che ogni volta la sabbia si accumulasse dietro questa rete frangivendo e poi con una semplice ruspa toglierla e rimetterla sempre al ripascimento dove è venuta c'è dalla spiaggia. Non vorremmo che per realizzare un porto fruibile si danneggiasse anche l'esistente? Sì, 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 infatti non si danneggerà sicuramente perché ci sono delle persone capaci e tecnicamente capaci che stanno valutando il tutto, quindi non si faranno dei lavori così a disperdere ma saranno dei lavori questa volta fatti proprio in maniera che non si perderà il lavoro fatto. Ma quando vedremo un porto, sul vero senso della parola? Quando vedremo un porto? Noi speriamo per giugno avere quantomeno l'inizio dei lavori, quantomeno quello. E per l'insabbiamento dei fondali? Per l'insabbiamento dei fondali, una volta che inizieranno i lavori e quindi i lavori è un progetto unico, quindi allungamento del braccio la piandumazione a queste dune e l'escavazione a 4 metri di fondale e quindi sarà un porto fruibile entro luglio. Una giornata interamente dedicata alle scienze, quella che trascorreranno domani gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga diretto da Viviana Aldisio. La giornata delle scienze avrà inizio alle 9 e si concluderà alle 18, arco di tempo in cui gli alunni si cimenteranno in attività logico-matematiche e scientifiche. L'iniziativa rientra nel piano dell'offerta formativa ed è proiettata al conseguimento degli obiettivi di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze. Tante le attività laboratoriali previste nel corso della giornata che saranno proiettate a rappresentare temi e personaggi del mondo delle scienze, della matematica e del loro ruolo che hanno nella nostra vita. Sarà un fine settimana dedicato alla politica, alla riflessione rispetto ai problemi che attanaglia nel territorio del Nisseno e le possibili soluzioni, quello che si prospetta a Caltanissetta. Due agli appuntamenti previsti il 5 e il 6 marzo in città organizzati dai due partiti di maggioranza che sostengono la giunta al rubolo, PD e UDC. Ad aprire le danze sarà il Partito Democratico, sabato alle ore 17 all'Hotel San Michele. Quale futuro per il territorio Nisseno? Questo è il tema del convegno dibattito sullo sviluppo delle aree interne della Sicilia con particolare attenzione alla provincia di Caltanissetta. Una domanda ormai obsoleta, la quale si cercherà di dare una risposta che non sia individuale o ideologica, ma che risponda alle esigenze e ai bisogni, alle prospettive, ai progetti dei territori, dei loro amministratori e dei cittadini. Ad introdurre i lavori e a moderare l'incontro, al quale sono stati invitati i sindaci, i consiglieri comunali e gli amministratori della provincia di Caltanissetta, sarà Ilaria Insisa. Interverranno Davide Faraone, sottosegretario di Stato del governo Renzi, Giuseppe Lupo, vicepresidente dell'Ars, e Daniela Cardinale, deputato nazionale della provincia Nissena. A rappresentare le istanze del territorio, tra gli altri, Giuseppe Gallè, segretario provinciale del PD di Caltanissetta, Angelo Fasulo, del PD di Gela, e Totuccio Scannella, segretario del PD di Mussomeli. Domenica 6 marzo, invece, l'Udc, a conclusione dei congressi cittadini nei 22 comuni della provincia, con l'elezione dei segretari, l'ultimo domenica scorsa a Gela, ha indetto a partire dalle ore 10 a Villa Barile l'assemblea provinciale che servirà a definire il quadro programmatico e le linee politiche che il partito porterà avanti nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle questioni e alle esigenze del territorio, motivo per il quale sono stati invitati anche gli amministratori locali che saranno coinvolti nel dibattito. Caltanissetta sarà la quinta tappa dell'assemblea provinciale dell'Udc in tutta la Sicilia. A introdurre i lavori sarà Angelo Bellina, segretario provinciale dell'Udc. Un'occasione per riflettere anche sull'attuale momento politico nazionale e regionale, grazie alla presenza di Giampiero D'Alia, presidente nazionale dell'Udc, e degli assessori regionali alla famiglia, politiche sociali e lavoro, Gianluca Miccichea, le infrastrutture e mobilità, Giovanni Pistorio. Tra gli altri interventi programmati è anche quello di Margherita Larocca, presidente regionale dell'Udc, e Mimmo Turano, capogruppo dell'Udc all'Ars. Si è spento all'età di 78 anni, crocifisso romano, suocero di Saverio Cammalleri, ideatore e curatore del nuovo sito internet del TG10. I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa di San Sebastiano. Alle famiglie Romano e Cammalleri le condoglianze da parte di tutti noi. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, la Confesercenti dell'area sud della provincia di Caltanissetta, diretta da Rocco Parduo, informa gli utenti che il termine di pagamento per il rinnovo degli abbonamenti sia e sarà prorogato al 18 marzo prossimo. Inoltre, per tutti coloro che fossero interessati ad usufruire dello sconto per il rinnovo dell'abbonamento, possono rivolgersi presso l'ufficio di Corso Vittorio Emanuele 45. È stato prorogato al 15 aprile prossimo, al fine di poter usufruire della fioritura primaverile della flora dunale e il termine di consegna dei lavori relativi al concorso fotografico Le Dune Gelesi, promosso dalla Soroptimist di Gela e rivolto agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze e le peculiarità del paesaggio gelese attraverso le immagini. Le foto inedite devono essere stampate in formato 18x24 e salvate su supporto CD in formato JPEG con dimensioni minime di 3 MB e massime di 10 MB. La FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale Dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona. Il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente. Il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace e alla comunicazione al dialogo interculturale. Il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica. Dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita, in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno. I disegni migliori, sei per ogni scuola, dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente. I tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo. Sono previsti premi in denaro. Sabato 5 e domenica 6 marzo prossimi si terrà in tutta Italia la quindicesima giornata nazionale Unitalsi. Il segno della giornata, di cui anche quest'anno è testimoniale al Fabrizio Frizzi, sarà una piantina d'ulivo che verrà proposta come impegno per la pace e la fratellanza, in oltre 3.000 piazze italiane. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall'Unitalsi per sostenere numerosi progetti di solidarietà in cui l'associazione è impegnata quotidianamente sull'intero territorio nazionale, al servizio delle fasce più disagiate della popolazione, grazie al costante e generoso impegno dei propri soci. A Gela l'iniziativa si terrà in piazza San Giacomo, piazza Umberto I e via Palazzi, angolo via Albania. Una colomba per la vita, con la dolcezza si ottiene tutto, anche una nuova vita. Con questo messaggio, sabato 5 e domenica 6 marzo, torna anche a Gela e Muretti di Macchitella, l'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Midollo Osseo, presieduta da Giacomo Giurato. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani, soprattutto a diventare donatori di midollo osseo. Nel gazebo e nei desk ADMO, allestiti per l'occasione, dove spiccano le colombe per la vita, racchiuse in eleganti confezioni, è possibile chiarire dubbi e ricevere tutte le informazioni necessarie per diventare donatori di midollo osseo. Continua la prima rassegna teatrale per l'infanzia a Gela. Sabato 5 marzo prossimo alle 18, presso la Casa del Volontariato, in scena la Cicale e la Formica. Si tratta del secondo appuntamento con Favole in famiglia, prima rassegna di teatro per l'infanzia e l'adolescenza. Gli interpreti sono Fabio Guastella e Eridiana Petrone, che ha curato anche i testi e la regia, le musiche originali di Giuseppe Nicolosi e le scene di Tiziana Rapisarda. Sarà illustrato sabato 5 marzo prossimo alle 18, il programma degli eventi del 2016, promossi dall'associazione sportiva dilettantistica Velo Club Gela, presieduta da Antonio Esposito. Appuntamento nei locali della Chiesetta San Biagio. E adesso parliamo della straordinaria affermazione ottenuta dalla Gymnastics Club Gela. Gli atleti locali hanno conquistato infatti il titolo di campione d'Italia di cheerleading. Sentiamo. Walter Micichè, le ragazze del cheerleading tornano dal campionato nazionale con il primo premio. Campioni d'Italia, una vittoria meritata e molto sudata in palestra. Sudata, lo dobbiamo chiedere al tecnico Simona Scerra, perché è lei che li ha eseguiti magistralmente. Io ovviamente da parte come direttore sportivo sono contentissimo, anche perché abbiamo avuto il primo titolo italiano nel 99, il secondo nel 2003 e adesso con Simona siamo arrivati nel 2016. Felicissimi di questo obiettivo raggiunto, anche perché i ragazzi hanno dimostrato grande crescita, non soltanto individuale, ma in questo caso anche sportiva. Che poi è il vostro obiettivo, la crescita complessiva dell'individuo? È l'obiettivo principale. Difatti, quando sono stati fuori, ci sono ragazzi, per esempio, che la prima volta che prendevano un aereo, la prima volta che facevano una gara di questa portata, quindi essere in un palazzetto con 5.000 persone, ovviamente dà una formazione sicuramente diversa. Le Starlight della Gymnastics Club dunque trionfano. Che esperienza è stata per te come tecnico, ma soprattutto per gli allievi? Un'esperienza emozionante per me, perché ho visto la crescita di questi ragazzi anno per anno, giorno per giorno. Siamo partiti con la consapevolezza di aver fatto bene in palestra, di aver dato tanto. Non speravamo in questo risultato, perché comunque tanti agonisti partecipavano al campionato italiano, e alla fine questa inaspettata sorpresa è che ci ha resi veramente contenti, felici. I ragazzi, oltre ad una crescita in più, motivata da una gara ad alta competizione, hanno avuto questa grande gioia e il fatto è che lavorando, alla fine i risultati arrivano. In gara quanti i vostri atleti e contro quanti? Erano sei ginnasti atleti della Gymnastics Club contro altri 620 atleti, quindi lascio immaginare l'ansia e poi il paradosso di aver preso gran parte dei podi. Il primo podio addirittura ha preso due volte in due categorie, forse le più complicate del cheerleading, quindi ci riteniamo soddisfatti. Adesso si torna a sudare in palestra? Si ritorna a sudare in palestra perché non ci fermiamo. Siamo, diciamo, gasati da questa vittoria e poi si sa, una volta conquistato il podio più alto si diventa un po' bersaglio degli altri ragazzi che comunque tenteranno di strapparci questo podio al prossimo Grand Prix del Mediterraneo a cui speriamo di partecipare. È una vittoria che ha un sapore molto dolce visto che la squadra comunque è di recente costituzione, non sono tantissimi anni che avete avviato questa disciplina? Non sono tantissimi anni e poi vi è anche la consapevolezza che questi ragazzi si allenano comunque da un paio d'anni. Ragazzi che come tanti altri non hanno mai avuto grandi esperienze in fatto di ginnastica artistica e cheerleading e dal nulla sono diventati campioni d'Italia e questi ci riempie d'orgoglio. Siamo all'informazione cinematografica. Sono due film in programmazione al Cineteatro Antidotto di Macchitella a Gela. Alle 17.30 gioie e alle 19.30 e 21.30 il labirinto del silenzio. Il 9 marzo alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo nell'ambito della stagione di Cabaret è previsto lo spettacolo Tram Tram di Lasciate Libero lo Scarrozzo. Per informazioni 0933 91 18 92 oppure 345 58 80 580. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui e arrivederci a domani. Grazie per aver guardato il nostro canale.